Che succede adesso? Cosa ha combinato questo? Ci tradano Ma pensa a testo clown Ma pensa a testo clown Non esisteva, coglione! Boomer! Poppi-poppi 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 Perkins 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 That's the thing I'm in a doghouse or something man Well there's some truth to it You weren't coach's first choice for the draft spot He got overruled by Harvey So, here we are Let me guess you You know a guy, who told you that? That's my job to know a guy MP That's how I get actionable intelligence To help my clients make the best decision possible This is not making sense Coach we've been cool You've been treating me fair And plus he wouldn't publicly antagonize me You know what I'm saying? He been around a minute Coach know how to keep this on lock? Listen It might be a while before you get some serious playing time Okay C'è un po' di egos, e il coach non è il tipo di backerlo. Charles, ti stai dicendo che non ti stai spiegando perché sono i YouTube? C'è un pollo, bro. C'è un pollo che è il problema, ma per quattro ragazzi, non è il tuo più grande fano. La fronte offizia non è sempre 100%. E cosa so wilde prima di reale? Tu hai opzioni, ok? Stare con essere un po' di soldi. Show up to practice early, stay late, listen to what coach is asking of you, e tu deliver. What's the other option? Posso scegliere? Oh, che bello! Eh vabbè, ma che belle queste cose. Vedi, vedi, quando levano il cringe, queste cose qua sono bellissime che puoi scegliere, cazzo. Ma finalmente! Ma finalmente, cazzo. Allora, questo, secondo me, potrebbe aver senso, nel senso che non la rendiamo al pubblico, ma facciamo notare a chi di dovere che dobbiamo giocare perché ce lo meritiamo. Però, non vorrei far correre troppo le cose, ma sinceramente, ma sinceramente, nella stagione 2021-2022, non 15-16, fare il secondo di John Wall, sinceramente, io anche, anche no. Ecco, mettiamola così. Nel 2021, fare il secondo di John Wall, anche no. Continuo a darci dentro e si pronto, che forse è la risposta più politica di corretta. Il social, secondo me, è quella più sbagliata. Visto che il GM ci voleva, l'allenatore no, scavalchiamo l'allenatore e vai dal GM. Tanto, chi cazzo è che allenai a Houston? Chi è? Ancora quel coglione dell'anno scorso. Silas? Dai dai, pedalare. No, vabbè, ma che bello! Oddio, che bello! Eh, vabbè, che figata sta roba! Adesso ci sono anche... Ah, General Manager, Harvey Lesser. Prima o poi dovrò andare a parlare anche per lui. Con lui, intendevo dire. Questo è il PR Director, le Public Relations. E questo è il Coach Development. Che bella sta cosa! Questo è bellissimo! Molto bello, mi piace. Guarda chi è tornato! È tornato ancora! Il coach è tornato! Dalla un amico! Yo, questo era... Questo era un coach cringe. Sì, non sono molto un m&m. Non si collegano con il materiale. È un'altra cosa che è reattata. Oh, man. È un'altra cosa che vedo. È un'altra cosa che vedo. È un'altra cosa che ha qualcuno in mea, soprattutto qualcuno che conosceva il mio game, come 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 ti do. Alcuno che ha fatto il mio game. No, sicuro. E un'altra cosa che è stata un grande. Oh, sì. È un'altra cosa che è stato fatto. Non andiamo così, ma mi piace il lavoro che ho fatto con te, e ho una buona intervista, quindi siamo arrivati. Allora, ho una questione per te. Serious mode. What's up? You know about coach and Lester and all that stuff, right? Ok, what about it? Well, you know coach on, like, a coach level, so what should I do? Or did he say anything to you? No, nothing specific. Some off-handed stuff here or there, but, you know, I know he wasn't thrilled about the whole YouTube thing, but he just wants to win, that's all he cares about. So, if you put in the work, help us win, I guarantee you'll get playing time. Look, you know I'm not scared of no hard work. Alright, well, good. I spend some time, put together a plan. Ok. Some goals to keep you on track. You accomplish those goals, and you'll be in the starting lineup sooner rather than later. Ah, devo fare degli obiettivi, ok. So I'm not starting. I know this isn't how you picture things playing out to start your career. But you give me everything you got, and you're gonna earn a place in that starting lineup. No one's gonna stand in your way. Not Coach, not Harvey, not anyone. You got me kind of fired up, Coach G, I like that. Yeah, well, I was listening to Meek Mill on the way to work today. Dreams and Nightmares, not bad. Gets the blood pumping. Hey, look, you only about a decade late, but... That's good for you, so we're starting somewhere good. That's good. You can go, kid. Good to see you. Good to see you too, Coach. Ah, ok, così. Senza nessuna scenetta particolare. Sì, ciao, bello. Lì. Ho messo sto pallino arancione che però per la Mike Carin non è proprio il ma... Oddio, è vero che non ci armi lascio. Vabbè, intanto solo rete. Cazzo, vorrei segnare quando fa il bling. Eh, ho fatto verde assieme. Peccato. Allora, cominciamo dalla panca. Vinciamo la Pola 2. Probabilmente in questa stagione vinceremo solo quelle. Perché come potete vedere, al 18 settembre 2021 siamo la riserva di John Wall. E niente, fa già ridere così. Eh, vediamo se però segna subito per farci capire chi comanda. Eccolo lì, Giovannino Muro. Ok. La squadra dei Rockets è quella di adesso. Nel senso che... Ehm... Quella è... Wall... Jalen Green, draftato anche lui come se io non esistessi, ovviamente. Daniel Tice, Christian Wood e Dr. House credo sia il titolare. O forse Kevin Porter's Union, non lo so. No, Kevin Porter's Union credo sia questo qui accanto a me. Però non lo so, insomma. Ecco. Sono quei Rockets dei Miracoli. Ah, fanno partire Jo... Jason Tate. Allora, gli schemi li chiama la CPU. Ok. Poi sto anno che sono playmaker, ma... Subito timidissimo. Subito timidissimo. Dion. Non si smentisce. Subito timidissimo. Eric, mi devi passare sta palla. Ok, ok. Mi ha fatto qualcosa di buono dopo due palle perse. Ok, ok, ok. Ok, chi è questo bambino che mi urla? Perché non sta zitto? No. Dopo sto primo quarto non so se me lo merito tanto. Però me lo prendo lo stesso. Una cosa che non ci manca di sicuro è la personalità. Le. Siamo riusciti a fare qualcosa. Che schifo di inizio. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. David Nwaba out there with Martin. Then it's Porto. Then it's Cristian Wood. Not down the three ball. Bang! Bang! It's good! Eccoli. Eccoci. Non lo segnerei. Eh! Eh! Ref! Mi scusi. Infrazione di campo quella però. Mi scusi tanto messere. E dai! Per cortesia! Let's go! Sì, 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 sì. Sì! Gabbina! Pat! Vaffa culo, Pat! Levate al cazzo. Levate al cazzo. Levate al cazzo, Dio Cristo. Levate al cazzo. No, imbatte. No, niente. Imbattete. Non si batte. Nel garbage time mi hanno rimesso sti cani. Sti cani nel garbage time mi hanno messo in campo. Ma posso già chiamare gli schemi? Ah, cazzo. Non lo sapevo. Eh! Vabbè. 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 Con calma facciamo tutto. Con calma facciamo tutto. Quest'anno la difficoltà all fame non è uno scherzo come l'anno scorso, eh? Non è che ho fatto la bin più scarsa e che quest'anno la difficoltà all fame non è uno scherzo come quella dell'anno scorso. Quindi ci sarà un attimo... Che giornalista vuoi scegliere? Ma cos'è sta roba? Ma Giovanni Fortunato, direi. Giovanni Fortuna, anzi, scegliamo. Nice to meet you, John Luck. It looked like you struggled out there tonight. What went wrong? Già mi sta sul cazzo. Ciao. Look, it's nice to meet you, John, and thank you for the question. I really look forward to working with you this season. Thanks, me too, man. So, what did you think of your performance tonight? Oh, man, I just feel blessed to be playing in the NBA. This is a combination of a lifelong dream. Are you concerned about your early jitters? Look, I'd be shocked if I wasn't. How often do you get to fulfill your dream in life in front of millions of people? You know, my hands were actually shaping before tip-off, and I just knew this wasn't gonna play well, you know? My goal was just to get through it. Well, you certainly did, but how do you move forward? Just to get back in the gym, work on the game, get to know my teammates better, and they get to know my game better. Just, just. I was on the process, not the results, and things that eventually get better. What they want, and either way, but I made it to the NBA. Fair enough. Thanks, man. Thank you.